Fratelli e sorelle, buonasera. Avevo capito che c'era qualcosa che non andava. Così ho fatto qualche ricerca, cari amici, perché nulla di quello che dice o fa Bergoglio è detto a caso. C'è un codice Ratzinger, nemmeno papà Benedetto dice nulla a caso, tutto è studiato millimetricamente, ma anche c'è un codice Bergoglio, un sistema di comunicazione ammiccante con cui lui dà dei segnali, dice la verità secondo un certo obbligo di verità e fa ammiccamenti al mondo, alle simbologie, alle gestualità, alle ritualità della massoneria. Abbiamo già visto come, in uno scorso podcast, come il presunto Papa Francesco, poco prima di affacciarsi alla loggia delle Benedizioni, si mette la mano sul cuore. Viene però accompagnato alla sua destra dal cerimoniere pontificio, Monsignor Francesco Gamaldo, il quale aveva accompagnato anche l'elezione del Benedetto XVI. Ecco, quello che non si era notato fino adesso è che anche Monsignor Camaldo tiene la mano sul cuore. Vedete? Sia Bergoglio sia Monsignor Camaldo tengono la mano sul cuore. Ora, che sia casuale, certo, tutto è possibile che sia casuale, ma abbiamo già visto come nella prima apparizione erano già state apportate diverse modifiche nell'apparato simbolico, lo stendardo senza lo stemma di Benedetto XVI, le colonne tappezzate di rosso in modo del tutto inconsueto per l'elezione del Papa, lui che non indossa la mozzetta rossa e non indossa neanche lo stolone che tiene in mano Monsignor Guido Marini al suo fianco, lui che esce con la mano sul cuore, tipico gesto massonico di omaggio alla Grande Madre, gesto di saluto e reverenza verso i superiori massoni. Adesso vediamo anche Monsignor Camaldo. Ora, questo Monsignor Camaldo, se fate una ricerca su internet, vedete che è un personaggio molto potente all'interno della curia, è stato coinvolto in diverse questioni, il giornalista Gianluigi Nuzzi e altri riferisce che verrebbe chiamato Jessica, diciamo in altri momenti della sua giornata, diciamo così, un personaggio sul quale circolano alcune dicerie, io non so quante di esse siano suffragate dai fatti, però è un personaggio abbastanza chiacchierato, come voi stessi potrete constatare da un giro sul web. Ora, visto che Bergoglio non dice nulla a caso, anche questo saluto buonasera mi ha incuriosito. Buonasera, faccio una breve ricerchina su Google Buonasera Massoneria e mi viene subito fuori un giornale di Taranto che si chiama Buonasera. Questo giornale di Taranto sembra proprio essere molto vicino alla massoneria, tanto che pubblica diversi articoli sulla massoneria che vengono costantemente ripresi dal sito del Grande Oriente d'Italia. Per esempio, la massoneria svela i suoi segreti di Buonasera di Taranto. A Taranto libertà, uguaglianza e fraternità secondo i massoni dell'Europa. Sempre testata Buonasera. Intervista al Gran Maestro Stefano Bisi. Suona l'allarme per la democrazia. Taranto Buonasera. Gran Loggia d'Italia degli antichi liberi accettati muratori. Il titolo di Taranto Buonasera intervista a Luciano Romoli, evidentemente il Gran Maestro di questa Gran Loggia d'Italia. Ancora Buonasera, storia di un'ingiustizia contro i massoni. Intervista al Gran Maestro dell'Oriente d'Italia Stefano Bisi, eccetera, eccetera. Ora, questo è sufficiente per dire che Buonasera è un saluto massonico? Non del tutto, naturalmente. Però, certo, è un dato di fatto. Io ho scritto diversi giorni fa tramite un mio collaboratore alla redazione di Buonasera chiedendo loro se questo titolo per il loro giornale avesse alcune attinenze alla massoneria. E non mi hanno risposto. Ho fatto scrivere due volte e non mi hanno risposto. Al che ho pubblicato un post su un gruppo Facebook dedicato all'esoterismo, a studi esoterici, massonici, eccetera, eccetera. Ve lo leggo. Mi hanno detto che Buonasera era un saluto segreto tipico della massoneria sotto al fascismo, ma ho notato che anche nei paesi anglofoni, nelle logici, si saluta con il Good Evening. «Sapreste darmi una delucidazione sull'origine? Forse la stella della sera?» Mi risponde uno di questi membri del gruppo Facebook. «Sera deriva da Serafino, angeli della prima gerarchia celeste con sei ali che accendono la fiamma celeste. L'usanza di farne un saluto per ore successive al tramonto è di evidente connotazione luciferina. Lucifero, portatore di luce. In funzione rituale di riconoscimento tra adepti in contesti insospettabili viene detto tre volte, proprio perché ogni Serafino ha sei ali, per comporre il numero che tutti conoscete. Occhio a chi dice tre volte Buonasera». «Al che ho chiesto a questo signore, grazie, ma per caso non avrebbe una fonte bibliografica?» E questo signore mi risponde «Fonti bibliografiche per conoscenze esoteriche da reperire nella biblioteca comunale? Mi spiace, sono conoscenze tramandate oralmente». «D'accordo, grazie, immaginavo, eccetera». Ora, tra le altre cose che ho raccolto, c'è una cosa abbastanza divertente che riguarda Giovanni XXIII. Voi sapete che questo Papa viene accusato spesso di appartenere alla massoneria. Ora, chi è che lo dice? Lo dicono i massoni. Sono i massoni che dicono che Giovanni XXIII era scritto alla loggia tal dei tale, eccetera, eccetera. Quindi, se io voglio gettare fango sul Papa, sono massoni, che cosa dico? Dico che il Papa era un carissimo amico, un nostro confratello, era iscritto alla loggia tal dei tale, eccetera. Leggiamo sul libro «Testimoni inconsapevoli», la trattativa segreta che doveva salvare Aldo Moro. «Sulla presenza della massoneria in Vaticano ha qualcosa da dire anche Monsignor Capovilla. Papa Giovanni aveva come forma mentis quella del dialogo con tutti e quindi era arrivato fino al punto di rispettare non solo i comunisti ma anche i massoni. Certo, con i massoni lui diceva che era meglio fermarsi al buongiorno e buonasera». Ecco, naturalmente questo è un modo di dire, no? «Sì, sì, con quella persona, ma solo buongiorno e buonasera». È curioso che Giovanni XXIII, però, faccia riferimento a questa espressione gergale a fronte di quello che abbiamo appena illustrato. Quindi io non so se Giovanni XXIII avesse fatto un cenno a questo tipo di saluto. «Buongiorno e buonasera». Ho notato che diversi discorsi di gran maestri, eccetera, cominciano col buonasera. Questo di per sé non è indicativo, quindi bisogna inserire questo buonasera in un contesto più ampio per quanto riguarda Bergoglio. Appunto, le colonne rosse, guarda caso come le colonne del Tempio di Salomone, Iacchino e Boaz, guarda caso lo stemma di Papa Benedetto che viene oscurato, lui che non indossa la mozzetta rossa né lo stolone, la mano sul cuore di Bergoglio e di Monsignor Camaldo, detto Jessica. E poi vedremo che nel discorsetto di saluto che fa Bergoglio ci sono altri rimandi alla massoneria, ma questo lo tratteremo in un podcast a parte. Bene, cari amici, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Noi ci vediamo domani a Matera. Non perdetevi i prossimi appuntamenti. Vi ricordo che il 13 dopo domani sarò a Gaeta insieme a Professor Diego Fusaro, il 21 sarò a Latina, il 26 a Lecce, il 27 a Bari, il 28 a Monsignor Sant'Angelo in provincia di Teramo. Grazie a tutti coloro che hanno voluto sostenere il nostro lavoro, la nostra attività di ricerca e di divulgazione. Grazie a tutti.